ma perché c'è l'agro pro! non c'è l'agro pro! si, si, si dovrebbe funzionare! dai, provati! vabbè, scendi dai! ehi, scendi dai! speriamo, viene subì in mezzo no, ma quest'uono è luce ormai io ho capito come fanno scendi dai! ma scendi dai! guardalo, guardalo ma cos'è luce? bello bello oh, ma hai visto che l'ho chiamato? si, pare schifo proprio! ma quanto ci vuole pescare il figato? ci voleva un attimo prenderlo tutte queste smancerie questa canna di merla che pesa 45 kg e sono 90 grammi guarda quanto cazzo si piega con il cimino di figa ma appunto è una merda che cazzo da dire? oh 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 ho sentito che me lo so fatto ma perché lasciamo? si lascia fallo riprendere un po' che c'ha tutto è stato un po' che c'ha oh finalmente la sottotella tancio lo scapportare mannaggia dei miti la presse è un po' che fai l'ho di una cosa mi serve Sì, che becca veda. Stavo dicendo, questo si muove troppo bene, cazzo. Quello di insistere, guarda. Cacchia, è un salmone che risale, dove vai? Cacchia, è un salmone. 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 Ciao. Ciao.